Ragazzi una nuova serie ci sta togliendo ogni impossibilità di vita sociale Signore e signori La serie più discussa ed emozionante degli ultimi anni Un medico in famiglia 11 Ma che un medico in famiglia 11? Con le nuove straordinarie avventure di nonno libero e nonno Enrico Ma no, l'altra serie, Daniel Don Matteo con le nuove biciclette Ma che è Don Matteo l'altra? Ah, 13 Reasons Why Giusto? Sì, la suggero l'è zecchata Ma di cosa parla? Anna Baker è una ragazza che ha deciso di togliersi la vita Ma prima di farlo registra 13 audio cassette Con i nomi e le motivazioni che l'hanno spinta a compiere questo folle gesto La serie è davvero emozionante E analizza il fenomeno del bullismo in modo crudo e diretto Ma a parte il dramma Ci sono delle situazioni che possiamo dire Particolari Sì, perché oggi ci concentreremo sul coprotagonista di questa vicenda Il più grande ciclista al mondo dopo Marco Pantani Clay Jensen A cui vorrei simpaticamente dire Perché non ascolti tutte e 13 le cassette insieme Invece che farli perdere ore e ore della mia vita In ansia per le tue pottute e paranoie Ma ti vogliamo bene comunque Clay Ragazzi, dopo aver visto tutte le puntate Posso dire solo una cosa Date una vagina a quest'uomo E un motorino Ragazzi, i ventesimarsi in Clay Jensen È la cosa più brutta del mondo Rimorchi a meno di danno No, ma vanno per te Cioè, io comunque... Clay, devo dirti una cosa Vuoi limonare? No, esco con Justin Clay, devo dirti una cosa Vuoi limonare? No, esco con Marcus Clay, devo dirti una cosa Sì, dai, lo so già No, credimi Questa volta è diverso Quindi, sì Vuoi limonare? Esco con Zach Eh, vabbè, dai, ma che palle E l'unica storia che si evolve nella vita del nostro caro Clay È quella con la sua cazzo di ferita in fronte Vi prego Curategli quella cazzo di ferita in fronte Non guarisce mai Qualcuno chiami un medico Oltretutto fa una vita davvero difficile Sua madre, ad esempio, è un personaggio alquanto irritante Clay studia? Clay, mangia Clay, bevi Clay, fai il bravo bambino Clay? 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 Me, ci hai rotto la sacca scrotale Per non parlare del padre Colui che ha il dono di minimizzare qualsiasi cosa Matt, tuo figlio è appena scappato di casa Eh, vabbè, dai, tornerà Matt, tuo figlio continua a saltare la scuola Eh, vabbè, dai, sarà divertirsi Matt, tuo figlio è indagato per l'omicidio di Anna Baker Vabbè, dai Ma vabbè, dai, una ceppa di micchia È come se non bastasse il nostro Clay Circondato da personaggi alquanto strambi C'è Justin Foley Che prima di diventare un personaggio cazzuto Ci viene presentato come Come un idiota che si lecca le labbra Oh mio Dio Dai, smettila Oh mio Dio Ma sei scemo? C'è Bryce Il personaggio più odiato e concepito con il quoziente intellettivo di una scimmia E infine il numero uno Il prescelto da Anna per la custodia e la diffusione delle cassette Tony Il ciuffo di marmo che stalkererà Clay per tutta la serie Manco fosse l'amore della sua vita Pronto? Clay Devi ascoltare tutte le cassette Clay Devi ascoltare tutte le cassette Clay Devo cagare Le ascolto queste maledettissime cassette Le ascolto, le ascolto tutte Ci registro pure in Spagna del 99 Ma lasciami cagare Santo Dio E tutto questo viaggio di Clay Prosegue fino alla ricerca della verità Sulla morte di Anna Ma niente spoiler 13 è sicuramente una serie da guardare Perché porta la riflessione Su ogni nostro atteggiamento quotidiano A volte una frase che noi pari innocua Può trasformarsi in un colpo letale per una persona Anche noi in passato siamo stati vittime di bullismo Eravamo grassi e sfigati E quindi prede facili E pur rimanendo sfigati Ci siamo accorti che sei forte solo se aiuti gli altri E non se li distruggi Quindi se ti senti maltrattato Non pensare di sentirti in colpa per esserlo Ma parlane con i tuoi amici e con la tua famiglia Chi fa del male prima o poi verrà punito dalla vita E si renderà conto di ogni errore E se invece non riuscite proprio a guardarvi allo specchio Guardate come eravamo noi nei 13 anni E fidatevi C'è speranza per tutti Bene ragazzi il video di oggi termina qui Se questo format vi è piaciuto Mi raccomando arriviamo a 150.000 like E suggeriteci qua sotto Un'altra serie da commentare A nostro modo naturalmente E un saluto Pantelliano a tutti Se siete arrivati a questo punto dei video Commentate con Stop Bullismo Mi raccomando in tantissimi Tutti qua sotto